Radio Stap Ehi, non ci lasciare. In diretta stiamo per trasmettere... Cantando, ballando e musicando il ballo in tv. Fermi, fermi, stop, stop, ferma tutto. Ragazzi, ma quale ballo in tv? Siamo i radio, si torna al passato. Il programma è diretto e presentato da Tomi Mantineo, tecnico del suono Maurizio Artesani. Vi auguriamo un buon ascolto. Un altro 18.59. Vabbè, comunque non abbiamo voglia di sincronizzare gli orologi. A proposito, noi parliamo di ballo e abbiamo gli orologi fuori sincronia. Quindi in sincronia prendiamo due perché siamo fuori sincro per quanto riguarda gli orari. Vabbè, non è il minuto che conta. Comunque iniziamo allegramente la nostra puntata odierna, puntata di festa. E oggi qui a Roma si festeggiano i santi Pietro e Paolo. Quindi auguri, auguroni a tutti Pietro, a tutti Paola, a tutti Paolo, a tutte le pietre. No, però, Petra, no? No, le pietre. A femminile, se no facciamo come Totò, no? E là è maschile, là è femminile. Dovrete, perché è femmina. Quindi dovrete, dovrete. Allora, Pietra, Petra dovrebbe essere. Vabbè, insomma, sono nomi molto, molto comuni. O i nipotini, o amici, o portano questi nomi. Quindi auguri, auguri a tutti. So che a Roma si festeggia poco il nome, l'onomastico. Noi invece siamo un po' più di origini meridionali, anche se trasmergati emigranti al nord. Quindi abbiamo perso quello che sono un po' molte abitudini meridionali. Però c'è rimasta quella dell'onomastico, non c'è dubbio. È una bella cosa, oltre al compleanno, festeggiare il proprio nome. Che si dice, il nome poi ti dà una certa caratteristica di come sei tu nella vita. Perché a secondo dei nomi si hanno dei vari comportamenti che si assumono nella vita. Per esempio si dice che i toni, che gli antoni sono persone buone. E credo che, non lo so se questo è vero, insomma. Noi ci riteniamo persone a posto, anche se poi, beh, un po' tutti hanno il proprio giardino personale pieno di scheletri. Però poi alla fine siamo tutte persone buone, alla fine, no? Tranne casi eccezionali, guardando un po' i telegiornali, guardando un po' le cronache. Allora, amici, eccoci qui. Abbiamo fatto una volta, quando io non andavo a scuola, si dice, marinavo la scuola. Però a Roma serve di ceffa, cevo sega a scuola. E allora, abbiamo fatto questa famosa sega lunedì scorso, perché eravamo stanchi. Domenica c'è stata la gara del Gran Premio del Lazio. Vi racconto che abbiamo fatto le tre del mattino per mangiare. Dopo abbiamo cenato tutti quanti con la federazione, gli altri amici. Quindi, giustamente, noi gli artisti scenano prima, ma generalmente scenano dopo. Io personalmente, da vent'anni che sono in federazione, però, chiaramente nasco come artista. E come artista facevo le tre, le quattro del mattino sulla spiaggia a mangiare cornetti, spaghetti dopo le serate. Vabbè, erano cose da giovani. Però sto vedendo che con il ballo, con queste attività, piano piano sto riscoprendo questa bella voglia e queste belle cose che si facevano quando eravamo giovani. Ma noi siamo sempre giovani. Il ballo non fa mai invecchiare. Siamo così diversamente giovani. Vabbè, dice, parli tu che, insomma, alla fine cominci solo adesso ad avere qualche capello bianco, caro Tony Mantineo. Va bene, insomma, ci sono persone un po' più adulte di me che vedo che ballano molto meglio di me alla grande e che dire, il ballo fa bene. Allora, quindi, recuperiamo il tempo perso lunedì con la trasmissione che non è andata in onda. Vedete com'è la radio web? Se fosse stata la televisione, anche se eravamo malati, anche se eravamo... A proposito, siamo stati male due giorni a letto perché dovevamo recuperare le energie. Non so voi che avete fatto la gara, fatemelo sapere. A proposito, vi do i contatti. Ho la pagina aperta su Facebook. Amici di Musicando, il gruppo aperto. Io già ho scritto tra tre minuti si inizia, quindi abbiamo già cominciato. Vediamo se qualcuno interagisce in tempo reale. Avete gli smart, potete anche seguirmi dal mobile, dal mobile, per cui potete senz'altro comunicare con noi in tempo reale. Amici di Musicando, quindi il gruppo. E poi vi darò dei nuovi indirizzi perché ci sono state delle modifiche per quanto riguarda siti, internet e altri mezzi mediali di comunicazione con noi. Allora, saltate la puntata. Due giorni a letto, quindi abbiamo recuperato alla grande. Adesso siamo in piena forma. Non ci siamo mai fermati. Abbiamo fatto riunioni federali, abbiamo già, vi posso già dire, abbiamo già fatto il calendario per il prossimo campionato, sempre permettendo altri impegni. Abbiamo delle serate estive, quante cose oggi che vi devo dire di bello, nuovi siti, nuovi contatti. Insomma, allora, procediamo con ordine. E dunque, recuperato l'affanno, è stata una bella finale, quella del 21 giugno. Un po' travagliata perché non per colpa nostra, non vi sto a spiegare i dettagli, però quella è l'idea. Quella è l'idea di fare una finale dei grandi fasti. Guardate, è stato solamente un gioco quella di domenica. Possiamo fare, guardate, in percentuale, quello è stato il 40% di quello che può dare Feedback Roma. Noi già abbiamo pensato, la prossima finale deve essere una cosa spettacolare e poi cercheremo di farla di sabato sera. La finale per forza si deve fare di sabato sera perché ci dobbiamo dilungare, dobbiamo fare le due, poi tutti insieme dobbiamo andare a mangiare gli spaghetti, i cornetti, insomma, dobbiamo festeggiarlo meglio, dobbiamo creare quella socialità che insita, voglio dire, nel ballo, che fa parte del mondo del ballo, quello di stare insieme e viverla egregiamente insieme. Contento, io qui ho le classifiche, io devo farvi i complimenti perché i distacchi fra un club e l'altro sono stati veramente di pochi punti. E questo che significa? Che il tasso tecnico tra un club e l'altro non è come, guardate, il gioco del ballo, chiamiamolo gioco, non è come il gioco del calcio che tu fai tre gol e c'è un distacco notevole tra chi vince e chi perde. Nel ballo, alla fine, forse quello che non capite, siete tutti uguali. Quando due coppie, da sempre nella danza sportiva, si equivalgono, sapete, alla fine vince la più bella, quella che ha più stile, più portamento, che ha la parrucca, che ha l'accessorio, che ha lo smaltino, la dama, che ha l'abito più... Alla fine non vince sportivamente, ecco perché secondo me il ballo è un... cioè il ballo è un'arte e la componente artistica prevale sempre sulla componente sportiva. Alla fine vince chi è più sinuoso, chi balla meglio, chi muove i fianchi. I giudici guardano questo. È chiaro che se guardano delle persone che ballano in maniera rigida, è chiaro che tu non potrai mai vincere. Stare sempre sotto perché il ballo è armonia e quindi ci vuole movimento sinuoso del corpo. Però siete stati tutti bravi perché non c'è stato un distacco di dieci punti. Cioè in molte categorie ve la siete giocata proprio all'ultima giornata. In categoria, quella unificata, ve la siete giocata proprio all'ultimo per tre punti. La fatti dance è arrivata a seconda sulla fantasy dance. Per tre punti bastava che lì un giudice, una svista, un qualche cosa e lì si andava allo spareggio senza dubbio. E questo che vuol dire? Che chi è arrivato secondo per tre punti sono niente. Non sono tre gol che c'è un distacco tecnico notevole. Tre punti sono niente. Guarda io vi dico nel nostro regolamento, fino a dieci, a nove, dieci punti di distacco il tasso è più o meno pari. Quindi è inutile che dici vabbè io ho vinto perché il regolamento ti dice che tu c'hai tre punti in più ma alla fine tu sei pari. E da qui quello che stiamo un po' divulgando attraverso i commenti del presidente, del nostro tecnico federale Armando Marcelli che è il portavoce. Lui ha aperto una rubrica, più tardi vi leggerò, sul sito nuovo della Fibes Roma che si chiama La voce del portavoce. Sarà lui a parlare perché io dovrò parlarvi di altre cose più artistiche, più tecniche, più leggere. Lui è rottamatore, come si dice Roma, quello che mena è Armando Marcelli sulle cose come tecnico federale. E allora volevo subito darvi un non contributo per dirvi e per soprattutto dare una sorta di validità a quello che vi sto dicendo. Vorrei farvi ascoltare proprio ripreso dalla gara in diretta il saluto del presidente che è semplice, breve, però voi da queste parole dovete trarre la conclusione su quanto io vi ho annunciato in questo momento. Eccolo qui, lo ascoltiamo. Prego, salutiamo la parte fonica dall'altra parte, il nostro fonico che nonostante la festa è qui con noi per Musicando il Ballo e Radio. Prego, a te la linea. Grazie ragazzi e complimenti perché voi lo sapete a memoria e quindi complimenti a voi e insegnatelo, oltre al ballo, vostri ragazzi, insegnatelo prima della lezione di ballo all'inno nazionale. Presidente, un saluto da parte tua, visto che siamo arrivati alla finale, quindi da parte tua un saluto ai nostri amici di oggi. Ok, grazie a tutti e benvenuti. Siamo arrivati alla finale, per modo di dire. Siamo all'inizio di tante finali, perché il ballo è una continuità e quanto più lo si pratica, tanto più si cresce, fisicologicamente e fisicamente. Perché fa bene alla mente e al corpo, il resto è divertimento. Per me avete vinto tutti, chi si illude che dice che vi ha fatto vincere, peggio per lui. Io dico avete vinto tutti. Buon divertimento a tutti! Grazie a tutti! Ragazzi, amici, io vi dico, lasciate stare. Siete stati fortissimi. Lì non è il mezzopunto, il punto come quel giudice vi ha visto, vi ha giudicato. Credete me, lascia il tempo che trova. Perché siete stati tutti bravi. Ma poi una cosa, molti club che all'inizio, a Ciampino, all'Oasi, quando abbiamo fatto ottobre, novembre, le prime gare, non credevano molto. Ma poi, sapete qual è stato il bello? Che vi siete appassionati, non avete più mollato, siete cresciuti. Io vi ho visto crescere. Alle prime gare, qualcuno non è che ballicchiava bene. Guardate, io faccio il direttore, però vedo poi. Poi ci andiamo a vedere le immagini. Ecco, ringraziamo anche Radio Ballerina che ci ha preso il sonoro. Quindi sentite che sonoro perfetto che ci ha dato qui da utilizzare per Stapparario. E allora, io poi vado a vedere, vado a vedere i servizi. E vedo che all'inizio, giustamente quando si comincia un campionato, come il calcio, la squadra non è perfetta. Si aggiusta poi, dopo qualche mese. E così siete voi, perché è uno sport, è un'attività fisica e artistica. E quindi, man mano, siete cresciuti. Qualcuno che non ballava bene, poi alla fine, alla fine del campionato, se il campionato continuasse altri due mesi, magari faceva veramente faville. Molti altri si sono appassionati col Festival dei Ricordi. Ci avrei fatto vivere pezzi straordinari, che era 10 o 12 anni. Ma avete visto che bellezza è il Festival dei Ricordi? Con quei ritmi di una volta, con quella tuda, con quella deia qui, mueva mueva. Tutti quei pezzi che abbiamo ripescato, che poi rifaremo sentire e vedere. Stiamo preparando delle cose incredibili. Però ci vuole tempo, ci vuole tempo, pazienza, adesso qualche giorno di vacanza anche per noi. Ecco, per cui non accanitevi dietro lo statino, vado a vedere, ma come mi hanno votato, dov'è che devo migliorare. Guardate, andate bene. È stata una bella esperienza. Io vi dico un'altra cosa. Siete venuti al campionato nostro? Vi aspettiamo per il prossimo anno. Però, andate a provare a fare una gara con un'altra federazione, da un'altra parte. Guardate come vi piazzate. Perché questo è il confronto che dovete fare. Guardate, noi non siamo accentratori. No, tu devi venire solo da noi. No, voi dovete girare, dovete fare esperienza. Fate il campionato da noi, poi se avete tempo, andate anche a confrontarvi. Negli altri regolamenti, nelle altre cose. E vedete lì come vi piazzate. Ci sono, vabbè, poi qui apriremo, apriremo poi una pagina. Qui ci penserà a Marcelli, che lui, come si dice, picchia duro con i suoi commenti. Ma è il nostro regolamento molto sportivo. Anzi, non lo possiamo ancora attuare in maniera sportiva al 100%. Perché vogliamo venire incontro a molti club che, per esempio, hanno il problema del cambio d'abito. Ci tengono, giustamente, ad ogni ballo ad avere, come si dice, l'abbigliamento adatto per quel tipo di ballo. È chiaro che, per esempio, così stupito, banale, per farmi capire a chi sta ascoltando ma magari capisce poco di ballo. Ecco, per esempio, se tu fai un flamenco, è chiaro che devi avere un abbigliamento più spagnoleggiante. Se tu, ecco, quindi ci vuole l'abbigliamento adatto al tipo di ballo che tu stai proponendo. Siccome è un ballo e una gara, la nostra non è una gara di sincronità, di quelle stupidaggini che si sentono in giro, è una gara di coreografie libere. Noi diamo la massima libertà al maestro, al coreografo, anche a me piace dire maestro, all'insegnante. Perché la danza classica all'insegnante non c'è al maestro o alla maestra. Quindi, a certi livelli, c'è l'insegnante. Io, sta parola di maestro, come dice giustamente Marcelli, mi sa che c'ha ragione. Per me siete insegnanti, perché insegnate un'arte. Io lo vedo più come il maestro musicale, perché lì c'è un conservatorio, c'è uno studio, è un titolo, diciamo, statale. Qui è un'arte. Guardate, il ballo è come la bottega di Giotto e Cimabue. Quelli erano artisti, ma grandi artisti. Avete visto che opere hanno fatto? Ma non è che avevano un diploma, ma secondo voi Cimabue, Giotto, Caravaggio, che avevano un diploma? No, andavano a fare esperienza nella bottega del maestro. Ecco, perché era un'arte, come il ballo. Quindi voi, ballerini, andate a prendere lezioni nella bottega del vostro insegnante. Ma non c'è un titolo, diciamo, come può essere quello del maestro di musica? Che lì già è un titolo, diciamo, c'è il conservatorio, ragazzi. Non è che c'è un conservatorio di ballo. Sì, ci sono magari sorte di conservatori coreutici, accademie, di questo o quello. A meno che non si va a fare l'opera, ma lì è tutta un'altra cosa. E che ne so, io vi faccio anche un altro esempio. Ma il coreografo e il regista televisivo, quello però ha fatto l'altra esperienza. Certi non fanno nemmeno l'accademia. Stanno dietro un altro coreografo, come ho fatto io, quando andavo in televisione. Stavo a copiare quello che facevano gli altri coreografi. Oppure stavo in mezzo ai registi, copiavano quello che facevano i registi. Mi vedevano con l'appunto. Mi dicevo, senta, la mattina, ma lei che sta facendo con sto libret? Ma guarda, mi scusi, guarda, io non lo faccio più prendere. Ma guarda che non c'è niente da prendere appunti. Dice, guarda, tutto è stato inventato. Mi portava al bar e mi spiegava, guarda, nella televisione è stato inventato tutto. C'è luce e contro luce. Basta. Quando tu sai lavorare a luce e contro luce, tu già, quello devi adottare. E mi vedevano a me che ero giovanotto, con sto libretto che prendevo appunti, che volevo diventare giista purì appresso a loro. Insomma, ecco come poi alla fine la materia, l'arte della materia fa diventare personaggio. Devi andare a fare quello che poco piace, la famosa gavetta. Ecco perché questi titoli, come dice il presidente Colarusso, che lasciano il tempo che trovano. Allora, ho parlato e quindi già vi ho fatto i complimenti per quanto riguarda, adesso poi andremo a leggere anche qualche classifica, vi ho fatto sentire il primo contributo e c'è un altro bel contributo da ascoltare. Oggi non facciamo, oggi ragazzi, niente pubblicità, oggi se ne stiamo tranquilli, tanto è finito il campionato, adesso dobbiamo fare il reset, come si dice, di tutto il nostro palinzesto, del nostro lavoro, quindi ce la prendiamo calma con i nostri radioascoltatori. Allora, c'è qualcuno che ci scrive qui su Facebook, se no mi sento solo, 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 soletto, solo, soletto qui a parlare con voi, anche se non è vero, perché dopo vado a vedere i contatti in podcasting e vedo che vanno subito a 70, 80, 100, 120 con tutti, non solo con Facebook, con Radio Stap, ma con tutti gli altri social collegati, quindi sommiamo i contatti, lì ci divertiamo ogni settimana a vedere se aumentano o diminuiscono. Allora, cari amici, devo darvi delle novità per quanto riguarda i contatti. Dunque, ci siamo staccati da Canale Danza come Fibes, quindi non abbiamo più le loro pagine, se non è rimasto poco, quindi abbiamo esigenza e ringraziamo comunque gli amici di Canale Danza per lo spazio che ci hanno dato. Ecco, Canale Danza sta lavorando per diventare quello che è un sito multimediale sulla danza, radio televisivo, di notizie, di blog, di informazioni, quindi sarà ancora ad ampio raggio, quindi seguitelo, canaledanza.com. Noi avremo soltanto, ecco non compriamo più le pagine, abbiamo solamente degli spazzetti così di rappresentanza perché ci dobbiamo essere come tutti gli altri. e quindi abbiamo, proprio a ridosso della finale, abbiamo costruito un... dunque, mi è arrivato... oh, Maria Grazia mi ha mandato in tempo reale qui l'email, quindi ci state ascoltando, vediamo che cosa ci dice... no, io sono curioso io... dunque, sì, ci sta ascoltando, grazie, abbiamo già i contatti. E dunque, quindi, attenzione, segnate il nuovo sito di Fibes Roma, è molto bello, se andate su Amici di Musicando c'è il link, c'è la pagina del sito con le classifiche, c'è www.fibesroma.altervista.org, ci andate a cliccare e ragazzi qui ancora non è, come si dice, no, ancora non è completo, perché i nostri web designer lo stanno piano piano confezionando, però già sta a buon punto, guardate quante voci che abbiamo, home page, contatti, gare, eventi, riforma del ballo sportivo, programmi di gara, la ranking e la Coppa Fibes, il nulla host, dopo vi devo leggere questo nulla host perché è importante, la rubrica del portavoce e ancora, ancora, ancora niente, soprattutto date un'occhiata alla Somblera Fitness, abbiamo pubblicato il video qui, non page, perché è una bella disciplina che sta apprendendo. Comunque, volevo parlarvi, ecco, di questo, quindi, d'ora in poi, quindi abbiamo questo grande sito che sarà il punto di contatto con tutti coloro che in qualche modo fanno parte della Fibes, o anche i simpatizzanti, anche le altre federazioni, anche coloro che si occupano di ballo, che vogliono tenersi informati su quello che facciamo, quindi ricordate, Fibes Roma, tutto piccolo, attaccato, punto, altervista, punto, org, e trovate di tutto. Poi abbiamo un altro sito, sito amico, dove abbiamo preso degli spazi, dove si parlerà in questo sito del ballo popolare, le serate, il sabato sera, i festival, tutto quello che sono le balere, tutto il ballo cosiddetto più popolare, invece il ballo da gara su Fibes Roma e su Canale Danza. Il ballo invece del sabato sera, con tutte le notizie, le serate, le balere, eccetera, eccetera, su cosediballo.altervista.org. Non lo dirigiamo noi, sono degli amici che lo dirigono, noi abbiamo preso dei piccoli spazzetti per farci vedere ogni tanto quando abbiamo tempo e ci andiamo a pubblicare qualche cosa. Allora, grande data, la vedo qui, allora torniamo su Amici di Musicando, così vediamo se ci contattate. Oh, sono arrivati, vediamo un po' che mi dice, ecco qua, vediamo un attimo, io non sono molto rapido, mi sto riposando dalle ultime fatiche, sto aspettando il regolamento della Coppa Fibes, se potremo ci saremo, benissimo, grazie, grazie Maria Grazia che ci ha scritto queste belle cose sul nostro portale Amici di Musicando, quindi siete in diretta, ci state ascoltate. Allora, parliamo di Coppa Fibes subito, visto che Maria Grazia ci ha chiesto qualcosa. Allora, che cos'è la Coppa Fibes? Sapete, nel calcio, avete visto, noi vogliamo, attraverso questo campionato, come facciamo ormai da, dunque siamo arrivati nel 98, abbiamo cominciato nel 2000, prima si chiamava Trofeo Musicando, poi dal 2005 si chiama Gran Premio del Lazio. E chi è questo? Ah, questo è Carmine dice, mi invita a giocare a Candy Crush Sega. No, Carmine, io non gioco, non mi mandate, non mi mandate queste cose, Carmine. Poi Carmine ex Fibes, o Fibes ancora, Carmine Collaps da San Vico, San Vico, no, Santa Maria Vico, provincia di Caserta, ciao Carmine. Allora, stavo dicendo Coppa Fibes, sapete, no, nel calcio c'è la Coppa Italia che da inizio al campionato. Come funziona la Coppa Team, come la chiama Coppa Team, Coppa Italia, chiamiamola come si chiamava una volta. Tutte le squadre della Serie A, della Serie B, della Serie C si incontrano per giocare e cercare di vincere questo trofeo. Però vedete, alla fine lo vincono sempre le grandi squadre attrezzate, anche se giocano quelle di Serie C. È chiaro che una squadra di Serie C può arrivare a fare la semifinale, i quarti di finale. Qualche squadra di Serie B ha giocato anche la finale, ricordo, negli anni addietro. Però raramente riescono a vincere il torneo. Però danno a tutti la possibilità di giocare. No, lo sport è così. Io ti do la possibilità di giocare, vediamo se sei bravo. E questo è quello che non è mai stato applicato nel ballo. Nel ballo, nelle carette di ballo, non è mai stato applicato questo regolamento veramente sportivo. Noi già da tanti anni stiamo in qualche modo cercando di rendere più sportivo, con poche regole, il ballo da gara, cosiddetto. Allora, quindi per la stagione, adesso vorrei andare un attimo a darvi qualche altra... Aspettate un attimo che faccio un link al volo, eh. Veloci, veloci, perché qui col computer devo un attimo... Sapete, io è da pochi anni che sono diventato cosiddetto tecnologico. Allora, Coppa Fibes, eccola qui. Prendiamo la pagina dal nostro sito Fibes Roma. È già pubblicata la locandina Coppa Fibes Dancing Match. Attenzione a questa denominazione. Un match. Quindi un match è una sorta di partita, di grande partita, cosiddetto match. Che cos'è il match? Nel ballo sportivo si fanno i dance match, si fanno in diverse località del nord Italia, del centro Italia. A Roma, le scuole di ballo romane sono poco abituate al dancing match. Noi lo lanciamo, ma lo lanciamo non come lo fanno al nord, come lo fanno in maniera esasperata. Io ricordo quello di San Benedetto, che è famoso, quello di Alassio. Sono dei team match veramente famosi. Quindi sono gioco di squadra. Cosa bisogna fare? Bisogna mettere insieme più discipline. Come nell'atletica leggera c'è il triathlon, c'è il pentatron, no? Sono cinque discipline. Qui, poi, che possiamo fare qui? Ballo di coppia e ballo di gruppo. Che possiamo fare? Quindi faremo mista una batteria a tre balli di coppia e una combinata cosiddetta di balli in squadra e una combinata di balli in coppia con sei balli in combinata. Adesso vi spiego anche che è la combinata, così facciamo informazione. Poi abbiamo fatto girone A e girone B. Vi dico anche il perché. Innanzitutto la data, il 4 ottobre. Quindi cominciamo, avevamo pensato, avete sentito, vi ho detto il 27 settembre alla gara. Poi abbiamo detto ma è presto, le scuole si devono preparare, qui a Roma si sa, le scuole cominciano tardi, ci sono da comprare i libri a settembre per gli allievi, a settembre ancora così un mese di preparazione. Allora, vabbè, posticipiamo di una settimana, cominciamo il 4 ottobre, perché poi la Coppa Fibes ci serve per dare quei titoli, quei premi alle squadre che durante il campionato hanno conquistato un qualche cosa di particolare, dei premi particolari. Adesso apro un'altra pagina così vi do questi premi particolari. E quindi in occasione del ritorno al, non è la prima di campionato, quindi la Coppa Fibes, ricordate che la Coppa Fibes è come una sorta di incontro dove si vince il torneo federale ed è l'occasione per ritrovarci insieme e fare una gara a match, quindi ballando tre balli di gruppo alternati a una combinata di balli di coppia. E visto che ci sono poche coppie, che generalmente fate tutti i balli di gruppo, ci abbiamo pensato noi a risolvervi il problema, basta solo una coppia. Una coppia che può ballare tutte e sei balli. Poi se ci sono scuole che hanno sei coppie, una coppia per ogni ballo, altrimenti una sola coppia va bene che faccia tutte e sei balli. Quindi cominciate a preparare due vostri allievi, quelli che ritenete un po' più idonei, preparateli con questi sei balli che sono mazzurca, valse brillante, tango e qui step per gli standard, cia 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 e rumba per i latini, cioè quello che alla fine ballate di gruppo, lo dovete fare con programmi liberi, come vi pare a voi, come detto alla romana, come vi pare a voi. Quindi ogni coppia rappresenta il proprio club, quindi un match dove i club giocano insieme. È una cosa bellissima come si fa nel ballo con team match veramente di alto livello. Questo è preso sulla falsariga per adattarlo qui a Roma che magari non si è molto abituati, ripeto, a questi team match. Quindi si sommano i punti conseguiti con i balli di gruppo e quelli conseguiti con i balli di coppia. Ovviamente i primi tre vinceranno la prima coppa Fibes, la seconda la terza e poi c'è il premio di consolazione, però è sempre una bella coppa, molto alta, bella, con il logo Fibes per tutti i partecipanti, quindi c'è un premio proprio a riconoscimento per tutti. In più diamo quei premi che così sono i cosiddetti premi speciali. Ecco per esempio vado qui sulla classifica e vi leggo i premi speciali. C'è la patitenza di Gallicano che è arrivata prima in seconda categoria di visione ballettistica, ha totalizzato, non so se so, 1112 ma bisognerà aggiungere quelli dell'ultima giornata, quindi adesso Anna sta riconteggiando tutti i punti col computer. In sette giornate comunque ha vinto il trofeo per il club con il punteggio più alto, ha superato di gran lunga i mille punti. Poi il centro anziani di Pitini ha vinto il premio creatività coreografica, vi leggo la nota di merito che sta esposta anche sul sito, per aver presentato in tutto il campionato balletti elaborati e spettacolari con ausilio di accessori scenografici e nella fattispecie equiparabili a mini musical. Attestate le note di merito, il coordinamento federale di Roma assegna il titolo al club sopraindicato, già consegnato quindi nella serata finale, insomma già dal thriller, dagli indiani, dal balletto con le monache, i predi, ne avete fatte di tutti i colori, insomma avete fatto veramente dei mini musical. E nel prossimo campionato c'è proprio una categoria mini musical, attenzione perché se questo tipo di situazione supera il 50% della lunghezza del balletto andate a finire in quella categoria là, perché poi c'è poco di sportivo alla fine nostra, quindi fatele, ballate tutto in maschera, magari ecco se all'inizio c'è la maschera e se poi invece chiaramente il ballo va a essere diciamo un balletto semplice, sportivo, allora va bene lì rientra nella categoria nel quale è scritto, però se è tutto un ballo tipo musical va a finire nella categoria mini musical. Poi attenzione, campioni interprovinciali, centri sociali, centri anziani è stato dato a Campoleone e Lanuvio, unico centro sociale per aver aderito e partecipato a tutte le sei giornate di campionato di categoria proveniente al di fuori dei centri anziani della capitale, premio già consegnato. Qui devo aprire una parentesi sul campionato interprovinciale per i centri anziani, anzi la facciamo subito visto che ci stiamo parlando. Mi è arrivata qualche chiamata, qualche telefonata di qualcuno che mi ha detto ma il premio, il premio dice era regionale, era interregionale, come mai che ci avrei dato interprovinciali? Allora queste domande io non me le aspetto da chi fa, da chi ha una scuola di ballo, da chi dirige una scuola di ballo e dovrebbe essere informato su quello che fa sull'associazionismo sportivo dilettantistico, io non me le aspetto certe domande, però se arrivano io devo rispondere giustamente perché sono una persona educata. Allora provate a chiedervi, voi dei centri anziani che avete partecipato al campionato, avete incontrato altri club di Rieti, di Viterbo, di Frosinone, di Macerata, di Sulmona? No, avete giocato con Roma Roma e con Latina. Quindi due province interprovinciale. Anche per evitare una presa in giro, guardate io negli anni passati, tanti anni fa, una gara a Passo Corese, c'erano due scuole, una scuola sola mi pare, e c'era un mio amico che presentava Marco Anzellini che poi faceva il direttore di gara anche alle gare nostre ai primi tempi, ho sentito dire una squadra sola vincente, campioni regionali, una squadra sola. Ma come fa? Quel titolo è nullo. Se non ci sono almeno tre o quattro squadre che partecipano, e diventa ridicolo assegnare un titolo come questo. E purtroppo ci stanno in giro titoli così nulli che vengono assegnati. Io personalmente come serietà di federazione, come Fibes, il presidente Coda Russo ci sta attento a queste cose. C'è un regolamento poi anche che riguarda l'associazionismo sportivo o dilettantistico, io non vi posso dare un titolo che poi, chi è che vi vede, chi è che sta lì con i telefonini a riprendere, ma guarda quelli ci hanno giocato, pari e dispari, e te quelli sei campioni interregionali, ma di che cosa? Allora vi ho dato un titolo adeguato a quello, come la federazione deve fare, a quello che voi effettivamente avete acquisito, perché altrimenti diventa ridicolo, diventa una presa in giro. Allora io credo che questa è garanzia di serietà da parte di una federazione seria come la Fibes che ha inventato questi balli di gruppo nel 1996 con la prima gara, però i balli di gruppo la Fibes già li faceva prima nelle sale da ballo, in tante... Oh, me ne grazie molto attiva, mi stanno mandando tanti posti in tempo reale, vediamo se riesco a aggiornare la pagina, via con F5 così riesco a leggere quanto mi... Oh, gli stemmi della Fibes da mettere sulle magliette, dove li possiamo richiedere? Semplice, scaricate il logo, lo portate a far stampa come fanno le squadre di calcio, non è che la federazione calcio dà lo stemma alle squadre di calcio, no? Sono... è la federazione calcio che gli dice come lo deve fare, noi ve l'abbiamo detto, quindi scaricate il logo della Fibes e poi sotto ci mettete quello che avete vinto, no? Campioni interprovinciali, campioni regionali, breve, piccolino e quindi ve lo potete mettere, grazie, dice giusto ciò che tu dici sui titoli, grazie Maria Grazia, ok, perfetto, quindi scaricate il logo, ve lo fate piccolino, tipo come lo scudetto della Juve, prendete esempio dal calcio, potete mettere sui set autorizzati i club che hanno vinto, quindi già esposto per tutte queste belle cose, andate lì sul sito della Fibes. E allora ragazzi, adesso facciamo una pausa, va, adesso vi faccio ascoltare qualcosa della gara, così prendo primo bicchiere d'acqua visto, oh, ragazzi, già le 19.37, oh, 33 fa l'orologio centrale qui dello studio, per cui dobbiamo andare veramente avanti, però vi faccio ascoltare qualcosa, qui ecco pregherei il nostro fonico di prendere e dunque ci ascoltiamo l'inizio, la presentazione dei giudici, il festival dei ricordi e il premio GDE, perché devo parlare di questi festival, poi ritorniamo sugli altri argomenti, la Coppa Fibes, l'affiliazione e tante altre cose. Rimanete in ascolto e seguite questa parte della finale del 21 giugno a voi. Musicando, l'unica trasmissione che va a ritmo con te. Prima batteria di giudici, Costante Romani, Alessio Loretucci, Ricci Elisa, Leda Romagnoli, Ricci Leandro, seguite il commissario di gara. Allora, signori giudici, voi prendete adesso lo statino con un ballo di gara, numero di gara 116, categoria ricordi, classe unica ovviamente. Allora, questo è un festival particolare, lo abbiamo ideato noi di Fibes Roma nel 2009, sarebbe quello di ripescare quello che secondo noi nelle nostre gare da 15 anni, sono i pezzi che nel corso di tutto questo tempo sono stati più ballati, più graditi e che hanno regalato più emozioni, quindi abbiamo una classifica e per cui sono diverse scuole che partecipano a questa idea. E già vi posso dire che i trofei per la categoria libera, premio GDE e festival dei ricordi saranno sempre, sono i più grandi, proprio perché create un lavoro particolare, quindi in qualche modo dobbiamo premiare questo fatto di andare a ripescare queste coreografie e rimetterle insieme. Fin dall'inizio, per segare la rosa densa, ha partecipato assiduamente a questa particolare idea, perché secondo noi i pezzi di una volta sono più belli, come questo che oggi con un maxigruppo, ne vedo ben 25 per i signori della rosa densa di Belletri, provincia di Roma, coreografa Emanuela Mangano, capitano Tallone Emilia, il ballo ripescato per i devival coreografico e Toda Malou, prego! straordinario, grazie! Ci ho riportato più di dieci anni in via, era il 2001-2002 quando facevamo le gare con sta Toda, andava fortissimo, grazie! Potete accomodare? Allora, un attimo, regia, dunque, all'inizio avete visto abbiamo cercato di dare una finale dai toni maggiori, anche i giudici, molta rotazione, ragazzi siamo partiti con 5 giudici di livello, avete visto? Vi hanno giudicato persone che calcano parterre dell'Italia, dell'estero e quindi lì vi guardano, se ballate in modo sinuosi, come mettete il piede, perché quelli ragazzi, soprattutto le persone, i giudici di una certa età, sapete quante lezioni private hanno fatto, quanti soldi hanno speso per lezioni private dai grandi professionisti che gli hanno insegnato la posizione, il piede, come deve essere arcuata la colonna vertebrale, come deve essere la figurazione, l'esposizione del vi, cioè tutte quelle minime cose poi per arrivare a un livello internazionale. Guardate che non è cosa da poco essere giudicati da persone che il ballo lo masticano piano piano e purtroppo mi dispiace dirlo, ci sono invece persone che vanno a copiare i balletti da YouTube, si sentono coreografi, vengono e vogliono vincere. Capita anche questo, pochi per fortuna, ecco la maggior parte che hanno partecipato, chi è arrivato non è di questo livello, però c'è qualcuno che poi non è venuto più e io lo so, è gente che va a copiare dagli altri le coreografie oppure se le scarichi e credono di essere coreografi. Poi ti arriva, avete visto come hanno ballato quei ragazzi, come volavano? Ma ragazzi, voi signori, amici, voi non sapete quanto impegno c'è per arrivare a quel livello. È una persona di quel livello che ti dà un giudizio a te, che ti vede ballare. Insomma, solo questo dovrebbe far mettere in silenzio le persone ed evitare di andare da Anna allo skating, da Anna Martinelli a chiedere senti mi fai vedere i giudici come mi hanno votato perché quello mi ha votato così. Anzi sono queste le cose che a me in qualche modo mi lasciano perplesso su certi comportamenti e di questo ne ha parlato il maestro Armando Marcella. Allora, categoria libera, avete sentito, e dunque da settembre, anzi un'altra bella notizia, se non me la dimentico ve la do subito. Si parte il 4 ottobre con la Coppa Fibes, già vi posso dire che la prima gara di campionato è l'8 novembre a Palestrina, alla Rondinella, quindi esordiremo col campionato alla Rondinella di Palestrina che è una sala meravigliosa, non ve lo devo dire, l'8 novembre e poi ci fermiamo perché il 29 novembre c'è la gara a Formia, c'è la gara del Festival Nazionale di Ballo organizzato dal maestro Fabio Petagna coordinamento regionale al Palazzo San Pietro di Formia. Stavamo pensando se fare una specie di batteria di premio del Lazio anche lì perché è molto carino lì il palazzetto di Formia, si sta bene, c'è il mare, si mangia il pesce, insomma è una favola andare nella città del Golfo e ogni anno lì si fa il Festival, si fa sempre a fine novembre, per cui non vogliamo mettere due gare insieme. Stiamo pensando di farla l'alta il 6 dicembre, la facciamo sotto casa vostra, poi vi dico dove. Comunque dobbiamo aspettare la riunione federale di settembre, faremo un'altra riunione federale per sentire tutto il calendario delle gare. C'è tanta carne al fuoco su questo mondo del ballo che ci riguarda da vicino, però io adesso volevo fare un po' informazione e leggervi qualcosa di utile per tutti voi. Quindi andate sempre nel nostro sito che, vediamo un po', me lo devo imparare anch'io perché l'hanno fatto gli amici qui del web design, fibesroma.altervista.org. Sto andando in tempo reale qui col computer, eccolo qui, esce primo su Google, vabbè. Dunque volevo andare a parlarvi, dunque volevo leggervi quanto ha dichiarato il nostro portavoce, quindi andate sul sito Fibes e c'è la voce, il portavoce, parlerà lui Armando Marcelli, vi leggo qualcosa che riguarda il Gran Premio del Lazio. La voce del portavoce, si chiama, c'è la sua foto, c'è la foto di Marcelli che sta premiando le coppe al Gran Premio del Lazio. Grazie a tutti, ma attenti alla confidenza, vediamo un po', vi leggo un po' l'articolo di questa settimana che ha scritto Armando Marcelli, quindi sarà lui il portavoce della Fibes, andate a leggere su Fibes Roma, oppure quando ho tempo ve le leggo io di qua. Cari amici e colleghi, dopo essere passato alle cronache di settore con l'appellativo di rottamatore della danza sportiva. A causa delle mie crude e verace opinioni riguardo il nostro settore, che da oltre un anno espongo in tutte quelle radio e televisioni specializzate che mi hanno dato la parola, oltre ai mezzi multimediali come Canale Danza, con il quale abbiamo chiuso una certa collaborazione, ora approfittando del nostro nuovo sito della Fibes Roma, in qualità di vice coordinatore, con il ruolo di portavoce della federazione ho deciso di prendermi una pagina e di metterci direttamente la faccia, per essere più vicino a voi e cercare quel dibattito che attraverso le radio diventa sfuggente. Questo spazio vuole essere un mezzo per cercare di farmi comprendere meglio su come io vedo questo variegato e complicato mondo del ballo da gara e cercare sempre con voi un democratico e civile confronto e se possibile anche un contraddittorio su quanto prossimamente pubblicherò. Per questo vi ricordo l'e-mail eccetera eccetera e poi dice oggi vorrei aprire la pagina, la prima pagina, prima di tutto ringraziando tutti gli insegnanti di ballo, ben sapete che a me non piace la parola maestro, inoltre a tutti i ballerini che hanno dato vita a un campionato interregionale appena concluso il 21 giugno scorso all'Oasi di Roma in uno scenario suggestivo come potete vedere nelle foto che qui pubblicate, mentre sto premiando alcune coppie vincitrici del torneo. Il campionato è stato molto bello perché durante il corso alcuni club si sono appassionati ed hanno fatto di tutto per andare fino in fondo, segno tangibile che nel settore oltre ai parucconi, ci sono anche tanti bravi tecnici e ballerini come quelli che ho conosciuto in queste sette giornate. Come ha detto il presidente Peppino Collarussa al cerimoniale siete tutti vincenti, non solo perché lo scarto di punti in classifica è veramente minimo tra un club e l'altro ma per il fatto che avete avuto la voglia di seguirci fino alla fine. Bene, come mio modo di fare all'inizio uso sempre la carota ma ora a qualcuno purtroppo devo anche dare il bastone, qui comincio a preoccuparmi. Ben sapete che non ho peli sulla lingua, probabile che a causa del nostro modo familiare di presentarci agli addetti ai lavori fa nascere quella confidenza tra le parti che ci pone con alcuni di voi in un tono molto più che amichevole. Bello tutto questo, però quando la confidenza supera i limiti e si va oltre il dovuto non si capisce più dove è il confine tra chi dirige e chi è il diretto. I ruoli quindi si mescolano. Per esempio ho visto e sentito colleghi, ospiti, permettersi il lusso di alzarsi dalla sedia per andare dal nostro direttore di gara e disturbarlo nel pieno delle sue funzioni per dare consigli improbabili e personali su come la prossima volta deve essere fatto questo o quello. Incredibile, sono rimasto allucinato di quanto ho visto. Provate a fare questo in una gara della Fides e vedrete che vi mandano via a calci in quel posto lì. Credo che sia il caso di ricordare a certi signori che sono vent'anni che organizziamo gare di ballo sportivo. Abbiamo fondato i balli di gruppo e la Fibes è una grande federazione, quindi merita il rispetto da parte di tutti. Non si capisce perché certi personaggi pensano che in Fibes si possono permettere questi lussi e questi comportamenti. Ecco perché io, Armando Marcelli, ho preso l'iniziativa in Fibes Roma di mettere i paletti e certi lussi, questi signori, non se li prenderanno più. Parola di Armando Marcelli. Marcelli, che gli fai? Che gli fai a questi? Vabbè, a me non è che mi disturbano, però quello che tu dici alla fine è vero, ma questo perché noi siamo familiari, noi magari veniamo a casa vostra, vi portiamo la locandina, ci prendiamo caffè con voi, perché noi non vogliamo, io poi personalmente, sapete, io faccio questo per missione, non è che ci prenda una lira, io, sapete, ho avuto il famoso incidente, qualcuno mi ha detto guarda Doni, devi fare questo perché devi far divertire la gente, è una missione, io devo fare questo. Però tu la prendi sul serio Marcelli, questa è la voce di Armando Marcelli che trovate ogni settimana nel suo blog, è il portavoce di Fibes Roma, quindi prendetevela con lui, lui lo sapete com'è, poi magari è gentile, vi porta al bar, vi mette tutto a disposizione, un pezzo di pane Armando, però è un professionista nato, lui le cose storte non le può vedere, insomma che certi colleghi, i parrucconi come gli vengono, ma sai Doni forse è meglio che, ragazzi non so 20 anni, facciamo pallo, poi è chiaro che ci sono i mezzi, i modi, uno manda un'email, uno dà la sua proposta, ecco come stanno facendo molti in diretta qui sulla pagina Amici di Musicando, stanno mandando i loro commenti e così si interagisce, civilmente e democraticamente, ma provate a farlo in un'altra federazione che andate dal direttore di gara, vabbè io mi metto a ridere perché poi sono tutti amici, vabbè dai poi vediamo, ci metto una parola così, no? Non si può andare, no? per una cosa che tu ne puoi parlare dopo, nei modi e nei tempi diversi di quello che è una tua idea di come fare una batteria di gara, di come far ballare prima quello e poi quell'altro, non puoi mentre, cioè provate a farlo in un'altra federazione, una cosa del genere, in un altro sport, ma che ne so, mentre c'è una partita di tennis, che ne so, al fuori Italico, si alza uno dalla sedia, va lì vicino al direttore e gli dice senti ma guarda che forse è meglio che tu la battuta la fai fare in questo modo, quello prendete e prende a calcio, noi non lo facciamo, io non lo so perché forse abbiamo quest'area familiare, pensate che la Fibes è una piccola federazione, ma non è così ragazzi, forse perché vi mettiamo troppo a vostro agio, noi continueremo per carità, mai da parte mia a mettere come si dice la famosa puzzetta sotto al naso, mai, se venite da me anche che io c'ho da fare, vi dico un attimo, però vi ascolto sempre, però ecco cercate giustamente come dice Marcelli di dare a Cesare quello che è di Cesare, insomma di comportarvi quando c'è un evento rispettando i ruoli, insomma, no perché tu sei maestro, perché mi conosci, ti alzi, vieni mentre io sto presentando la gara a dire vabbè insomma lì c'era Marcelli, lui stava confermato io, io ho detto se saremo, vabbè, insomma questa è la parte poi comica, no, che c'è del, o qui c'è un'altra bella cosa poi, guardo sempre sul sito Fibes, nulla osta, richiesta, richiesta, il presidente Fibes, nulla osta per legare ad eventi di balli di gruppo, lettera del presidente Fibes agli operatori del settore, sta arrivando in maniera buonaria qualche diffida a qualche ente, a qualche associazione che organizza gare di balli di gruppo senza permesso Fibes, il permesso è gratuito, siccome la Fibes ha registrato il marchio dei balli di gruppo, anche se li chiamate coreografi, boom, anche se li chiamate col nome di comodo, come dice il professor Colarusso, sono registrati balli di gruppo di ogni ordine e grado, poi alla fine se li cambiate nome, sono sempre balli di gruppo, il professor dice, come dice, eh che cosa sono, sono sempre balli di gruppo, e allora, semplice, richiedete il nulla osta, tanto vi facciamo la letterina gratuita, i gregi signori della Fibes, vogliamo organizzare per tale giorno gara di balli di gruppo, via, e vi arriva il nulla osta, così state tranquilli. Vi leggo qualche frase, poi ve l'andate a leggere se vi interessa sul sito Fibes, da Fibes Roma, punto altervista, punto org, alla pagina nulla osta. Gentilissimi maestri e operatori del settore, sono il professor Peppino Colarusso, fondatore della Fibes, Federazione Italiana Ballo Spettacolo, anno 1985, nonché fondatore nel mondo della Social Dance, regolarmente registrata con acronimo FISDA, Federazione Italiana Social Dance. Allora è stato ospite, dunque, l'ingegnere Felice Colarusso, che è il figlio del professore, che è il presidente della FISDA, avete visto, ve l'ho presentato durante la gara, è lui che dirige la FISDA, una persona giovane, istruita, plurilaureata, ingegnere, da sempre nato nel ballo, e quindi è lui che ha avuto quest'idea di registrare la FISDA. Ora, la FISDA è una federazione parallela, una delle tre, le famose tre sorelle, Fibes, FISDA, Fides, Federazione Italiana Danze e Sport. Oggi, attenzione che dice Colarusso, indipendentemente dalla terminologia di comodo usata dai vari organismi del settore, per l'identificazione della stessa, la social dance disciplina regolarmente depositata presso la CIA nazionale, con riserva di ogni diritto, ragione ed azione, regolarmente riconosciuta con convenzione come disciplina presso l'Università degli Studi Statale Partenope di Napoli, con promozione ed organizzazione anche di tirocini informativi, con rilascio del titolo di maestro di primo livello, quale all'esercizio professionale della materia. Senza alcun vincolo diretto annuali, presso la CIA, indipendentemente dal materiale illustrativo della disciplina, è stato ampiamente illustrato e depositato che chiunque può liberamente utilizzare e divulgare la disciplina come insegnamento e ampliamento culturale a tutti i livelli. Allora, presso la CIA, la FISDA ha detto, vabbè, l'ho fatta io, però la faccio fare a tutti, la faccio fare pure alle altre federazioni, pure alla FISDA, a tutti. Però condivieto di promuovere e di organizzare manifestazioni, gare e campionari senza nulla osta della FIBES, quindi nessuno può organizzare le gare di balli di gruppo senza nulla osta della FISDA, FIBES-FISDA. Ma nel contempo, stipulando, una regolare convenzione viene concessa a titolo gratuito per la tutela del maestro e per evitare ogni forma speculativa. E quindi attenzione ragazzi, perché qui poi si va... A noi non piace andare con gli avvocati, le cose vanno risolte da persone civili, no? Parlandone, c'è una registrazione, cioè che becosta, fate la gara, la FITD fa la gara, chiamate FIBES, voglio fare la gara, il giorno tot è lì, mi date il nulla osta, perfetto, te lo do. Non è che ti dico de no, te lo do. È scritto che ve lo diamo gratis, senza neuro, senza rette, gratis, capite? La prima gara di social dance fu organizzata nell'anno 88-89 presso il Palasporte di Benevento e a seguire negli anni successivi. Il primo campionato nazionale fu organizzato nel 97-98 al Palasporte di Bernalda, provincia di Matera, in convenzione con il liceo Policoro Matera del Miure, c'era anche il Miure quindi per i campionati studenteschi. Andate a leggere questa cosa perché è importante, perché il Presidente ha cominciato a mandare le lettere di diffida a tutti i varienti, anche a coloro che organizzano i festival, i galà di balli di gruppo, i galà GDE, senza che sentono a noi, senza che sentono farina, cominciano a fare i galà dei balli di gruppo. Attenzione, attenzione perché da quest'anno il professore si è messo di punta e vuole la richiesta del nulla osta. Poi se ci sono altre cose c'è anche l'ufficio legale, ci sono gli avvocati della federazione, c'è lo SNALDES, c'è il sindacato autonomo lavoratori danze scuola, sempre aderente alla FIB e SFISDA, quindi abbiamo gli avvocati, potete anche parlare con i nostri avvocati per questo, non c'è problema. Abbiamo un pool, un pool di avvocati che si occupano anche se qualcuno viene squalificato dalla FIB, queste cose qui, dall'assistenza, il patrocinio gratuito, se avete problemi di natura legale, anche noi abbiamo qualche problema, abbiamo subito gli avvocati, qualche volta li portiamo anche in gara, perché se succede qualcosa in gara, qualcuno che si lamenta, qualcuno che si comporta malamente, c'è proprio l'avvocato, è nascosta lì, come c'è la Croce Rossa, c'è la sicurezza, c'è l'avvocato, perché se ti viene un controllo, se ti viene qualcuno che fa baccano, qualcuno che crea problemi, guarda lì c'è il nostro avvocato, te lo vedi con il nostro avvocato. E purtroppo oggi in questi tempi, come possiamo dire, questi tempi molto burocratici, bisogna agire così, bisogna avere commercialista, avvocato, avvocato sempre dietro poi, quando fai queste manifestazioni, è come la Croce Rossa, hanno messo il defibrillatore, il DSE obbligatorio, noi come Fibbers ci siamo inventati l'avvocato obbligatorio nelle nostre gare, perché onde evitare che qualcuno magari, sapete che è successo tanti anni fa? Qualcuno mi ha mandato, qualcuno a disturbare le mie gare nel 2004, è arrivata una persona a cominciare a fare di tutto e di più, io non ho chiamato i carabinieri per far continuare la gara, perché a me non piace interrompere la gara, allora siccome io ho tanta esperienza nell'organizzare spettacoli, è meglio che la cosa va avanti e scema da sola, uno gli ho dato ragione, sì sì, c'hai ragione, c'hai ragione, uno deve fare la figura del fesso tante volte per far, come si dice, per evitare il peggio, per evitare la rissa, allora lì ecco perché dice, tu direttore di gara, chi ti ha messo? Perché ci vuole occhio, non è che tu fai un corso, ragazzi è una dote, o ce l'hai o non ce l'hai, non la compi al mercato, siccome l'esperienza dettata dalla gavetta, io quando vedo puzza di bruciato dalla porta, quando poi c'è la sicurezza, già che abbiamo i segni convenzionali, lì già sappiamo come comportarci, e poi sì, se la situazione degenera e allora interviene l'avvocato della federazione che si alza da lì e ti dice, senti, cosa stai facendo, cosa vogliamo fare? Punto interrogativo e poi tu decidi cosa vuoi fare, molto semplice. E questo ragazzi è molto importante perché la situazione sta assumendo una valenza seria, per chi sottovalutava la FIBES e credo che adesso dovrà un pochino ricredersi su molte cose, finora abbiamo giocato, come si dice nel corso di questi anni, ma adesso vedendo l'andazzo del mondo del ballo, signori, purtroppo io sono solo un piccolo, modesto, umile coordinatore che non vivo di questo, vado a fare le serate, vado a fare dell'altro perché non c'è, come si dice, non c'è lo stipendio fisso, quindi uno può andare a fare diverse cose nell'ambito dell'associazionismo e poi c'è quella famosa regola, come il professor Collarus ha detto pubblicamente, che molti pensano di poter fare l'attività commerciale nell'associazionismo, attenzione che non è così, non è a solo statici attenti, non è così. E poi nella prossima puntata, visto che questo sarà un bollettino, questa puntata di musicando il ballo erario, bollettino informativo, aperto a tutti a 360 gradi, anche se la spina dorsale è FIBES, perché attraverso la FIBES si può parlare di tante altre cose collaterali, delle federazioni parallele, del ballo che non va, di tutto quello che è il mondo del ballo e darvi quei consigli per affrontare bene la materia. Io ho finito il tempo, volevo parlarvi di tante altre cose, volevo parlarvi, vabbè vi ho detto, ah un paio di cose vi devo dire subito, forse il 24 luglio, sempre dando nulla a nostra nostra, c'è un galà di bali di gruppo, lo dovrebbero fare al golosone di Nettuno, sto aspettando la risposta, dovremmo esserci pure noi. E poi il 31 luglio a Borgo Vodice c'è la festa della birra in provincia di Latina, ci saremo noi, ci saranno delle proposte di balli di gruppo, abbiamo qualche spazio, se c'è qualche scuola che vuole esibirsi di balli di gruppo, che ha partecipato al Gran Premio del Lazio, qualcuna delle nostre del Giro FIBES, ci può contattare, può contattarmi personalmente, vediamo di portare e anche voi vi facciamo fare una bella serata il 31 luglio a Borgo Vodice per la festa della birra. Quindi poi tante cose, ma ne parliamo nelle prossime puntate perché il tempo è veramente terminato. No, mi dice che abbiamo tre minuti, quindi li posso spendere ancora per parlare brevemente ancora dei altri argomenti che sono rimasti in sospeso. Allora, stavo leggendo le classifiche con i premi speciali della Coppa FIBES e chiudiamo con la Coppa FIBES. Allora, qui nella pagina pubblicata nelle classifiche ci sono i premi speciali. Abbiamo dato il premio al club da più lontano, quindi inequivocabilmente con due giornate disputate la federazione assegna il trofeo al club indicato, già consegnato, la Field Dance di Acqualagna, provincia di Pesaro Urbino. Poi c'è il premio FEDELTÀ, premio FEDELTÀ che hanno vinto le scuole Lusidense, Patti Dance, La Romanina, Vitini e Fantasidense perché sono stati presenti fin alle gare di Ciampino e quindi chi si fa tutte le gare, poi è così un titolo, bel trofeino è comunque da mettere nella vostra bacheca. Quindi questi vi verranno consegnati, tutti questi premi che non sono stati invitati il 4 di ottobre se venite a disputare la Coppa FIBES. Poi vi devo spiegare il girone A e il girone B, allora ve lo dico subito, nel girone A ci sono tutte le squadre che hanno vinto il campionato interregionale Lazio, quindi il campionato del Lazio, chi ha vinto il campionato studentesco, chi ha vinto il campionato nazionale FIBES, chi ha vinto gli altri campionati interregionali, quindi come la Coppa Italia del Calcio, si scontrano le migliori della FIBES. Nel girone B invece ci sono le squadre che vogliono partecipare solo in quella giornata, quelle squadre occasionali che solamente per una volta o per quella volta oppure che hanno partecipato una o due volte durante i vari torni ai FIBES e che non hanno vinto, praticamente non si sono piazzate, quindi però giocheranno uguale la Coppa FIBES a parte nel girone B dopo il girone A, quindi a partire dalle ore 12. Poi c'è il titolo, vabbè lo scudettino ve lo potete leggere, dobbiamo dare poi un premio alla squadra con un ballo che ha totalizzato più punti, quindi adesso abbiamo un problema col computer che si è impantanato come al solito, era meglio carta e penna, quando facciamo carta e penna già dopo mezz'ora i risultati erano pronti, adesso vogliamo essere tutti moderni, facciamo col computer, eccolo lì, è una settimana che dobbiamo recuperare i dati dal computer. Poi dobbiamo dare un premio alla Rosa Danza di Belletri perché ha disputato il maggior numero di categorie, si è iscritta in più categorie, quindi un altro titolo che daremo se questi signori e signori, sono tutte signore, vengono a partecipare alla Coppa FIBES, poi qui ho le classifiche, vabbè insomma abbiamo parlato abbastanza, ah un'ultima cosa importante, per la Coppa FIBES c'è il Valse Brillante, se avete bisogno di assistenza i nostri tecnici federali possono venire gratis, questo è sempre gratis, non vi preoccupate perché non vi chiediamo mai solo, veniamo un paio di volte, due lezioni gratis nelle vostre scuole a insegnarvi il Valse Brillante, è semplicissimo, è una stupidaggine e quindi sapete che FIBES Roma ha levato il viennese nel liscio, ha messo il Valse Brillante, da quest'anno, ragazzi da quest'anno è obbligatorio il cicalino, così evitiamo di dire via col disco, pronti, cara, dovete mettere, l'ho detto però quest'anno solo due o tre l'hanno messo, dovete mettere, non si chiama cicalino, si chiama segnale acustico, che dall'inizio al ballo, ve lo diamo, vediamo anche lì, vediamo tutto però mi raccomando, già dalla Coppa FIBES ci vuole il segnale acustico prima del ballo, 3-4 secondi prima del ballo di gara, quello ci fa guadagnare veramente 10 minuti e mi fa parlare de meno a me, detto alla romana. Ok ragazzi, quindi io penso di aver chiuso la puntata di oggi, ci sono tante altre cose, ci sentiamo su Amici di Musicando e ricordate i nostri siti, ve li ripeto, molto importante quello di FIBES Roma, appunto altervista.org, vedete quante cose ci sono, ci volevo un sito così complesso della Federazione Roma, poi Canale Danza rimane sempre multimediale, con noi ci siamo staccati però abbiamo sempre la rappresentanza, abbiamo qualche pagina e poi tutte le attività di ballo, i concorsi canori, il ballo del sabato sera, le serate danzanti, le ballere, le trovate su cosediballo.altervista.org, tutte linkate, quindi se andate su un sito trovate i link per andare su tutte queste tre cose, bene, è veramente tutto, io vi ringrazio dell'attenzione, ringrazio gli amici di Stapp Radio che ci danno questo spazio, torneremo puntualmente lunedì prossimo, sempre alla stessa ora e sempre interconnessi con Stapp Radio, si torna a passato, grazie a tutti e buona serata ancora, buon proseguimento, alla prossima e ballate! Abbiamo trasmesso Cantando, ballando e musicando, il ballo in tv Stop, 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 ferma, ferma tutto, ma ragazzi, ma dopo 90 minuti di chiacchiere ancora con il ballo in tv, ma non avete capito che siamo ritornati al passato, questa è la radio, Stapp Radio, e vabbè, ne riparliamo nella prossima puntata. A condotto in studio, Tony Mantinelli, tecnico del suono, Maurizio Artesani. Per ogni contatto, canale danza, chiocciolalibero.it